nanotappi nani tappi e quant'altro mi mancate da morire ma come faccio io senza di voi con quelle vostre simpatiche facce da schiaffi insomma stiamo facendo una quaresima che è proprio quaresima vi ricordate gli impegni che vi ho dato il mercoledì delle ceneri li state facendo potete farli anche perché a casa siete facilitati ma soprattutto mi raccomando prendete papà e mamma una preghiera la sera cerchiamo di mantenerci in contatto stiamo già studiando qualcosa adesso lo vedremo mandate dei whatsapp alle vostre catechiste che vi vogliono bene e che sono lì che mi dicono sempre ma ci mancano ci mancano tanto un bacio grande anche i papà e le mamme mi raccomando teniamoci in contatto io cercherò di farmi sentire don romeo cercherà di farsi sentire le vostre catechiste faranno lo stesso viviamo tutti insieme con tanta pazienza ma usciremo tutti più forti e più in gamba ok un bacio grande da don riccardo da don romeo e da tutte le persone che vi vogliono bene ciao grazie a tutti grazie a tutti